Non si accettano bambini. Sono sempre di più i ristoranti e gli hotel che adottano questa politica. Uno dei primi settori interessati è stato quello delle vacanze. Viaggiare senza trovarsi intorno bambini proprio altrui è stata una delle formule che hanno aperto la strada alla messa al bando dei più piccoli. Su internet si trovano centinaia di siti specializzati che segnalano hotel anche in Italia. Alcuni pongono come limite i 12 anni di età, altri 16. Non mancano i villaggi turistici e neppure le navi da crociera come quella varata a Genova. Persino le compagnie aerei si sono attrezzate per proporre offerte a chi preferisce volare senza bimbi intorno. Una tendenza rilanciata anche dai ristoranti. A causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione dei genitori non è gradita la presenza dei bambini di età inferiore ai 5 anni lasciati allo sbando. Recita da qualche anno questo avviso all'ingresso di un ristorante della capitale e se ne stanno aggiungendo pian piano degli altri. Perché i bambini rappresentano un fattore di disturbo oggi e non nel passato? Una volta probabilmente si era più tolleranti e allo stesso tempo c'era più attenzione da parte dei genitori a contenere l'esuberanza dei figli. Sarebbe bene che tutti i genitori e non facessero un piccolo bagno di umiltà. Più educazione e più tolleranza gioverebbero ad entrambi.